A me di altri settori per dei ribaschi di Rega 2, partita finita molto emozionante, quali i tuoi commenti di questo match? Beh, è stato un bellissimo derby, alla fine le emozioni erano tante, avere un palazzetto così pieno, che burla e tifa per te è sempre una bella emozione e per fortuna abbiamo pure festeggiato la vittoria così, finito con una bella vittoria e niente, contentissimo.